E c'è una scoperta delle meccaniche quantistiche che è quella che sta solleticando la mente di tutti. Il fatto che la realtà oggettiva non esiste, esiste la realtà soggettiva. Cioè esistono infinite possibili realtà, diventa la mia realtà quella che io osservo. E allora a questo punto quanto conta la mente? La mente decide la realtà in cui vivo. Io non posso cambiare lui, ma se io lo guardo in un altro modo è come se l'avessi cambiato.